Per quanto riguarda il nostro sifrano di turismo, il nostro direttore dell'Officina di Turismo la settimana passata ha sifrano di avanti, mi chiede che non ci sia di ripetizione sumamente orgoglioso di MIR e continuo di crescita con tutti i diversi mercati sin embargo, c'è un trend che mi chiede che è buono per prendere l'attenzione e molto particolarmente ora MIR e sifrano quattro sifrano di avanti e la meta che ci stanno per il 2023 che mi chiede che non ci sia di superare la meta per il governo di 3.5% e adesso di momento non ci sia di superare la meta che ora per il 6% che mi chiede che non ci sia di crescita al giorno, in ottobre del 2023, di 6.8% In questo caso, ci si chiede che è il trend molto particolarmente sumamente positivo di MIR e SIGI è il trend che ci si conosce per la ruba, la rappresentazione dell'America MIR e SIGI è il trend che mi chiede è una forma di attraire a ruba, di promuovere a ruba nel exterior con la duna, il risultato non è sumamente positivo comparando la quantità di sifra di turisti che ci si conosce e comparando il mercato che ci si conosce e naturalmente lo che ci si offre come prodotto che mi chiede che la parte della competenza del paese a ruba ora mi chiede in Bahamas, in Barbados e altri in Giameica, eccetera ci si conosce le sifra di turisti che ci si chiama per il trattamento americano, a ruba ci si competi e si è in la cabeça con la Cayman Island, la Repubblica Dominicana che naturalmente è più alto per considerare la quantità di cambiamento e l'invento di aumentare il paese, ci si mostrano che a ruba sta facendo bene per il mercato, un mercato che nel 2010-2011 sta stabilizzando, non ha fatto un crescimento in modo che noi stavamo da DCA, per motivo di fattore economico nel paese, ora mi chiede chiaramente la strategia con la ruba e la Oficina di Turismo a implementare sta donando i nostri risultati, sta donando le sifra con la nostra DCA